Fabri oggi visita l'ex CIE di Via Mattei, che cosa ha visto? Oggi siamo qui per verificare un po' questo centro di smistamento per la regione Emilia-Romagna, credo che l'operazione Mare Nostro non debba finire, già costruita troppo alle tasche dei cittadini italiani. Qui si accogliono le persone che poi vanno nei comuni che li accettano, il mio no perché ovviamente Bondeno non ha accettato neanche di sedersi al tavolo nella prefettura di Ferrara per gestire appunto questa operazione. Prima questo centro di smistamento era un CIE, cioè un centro di identificazione e di espulsione quando ancora il ministro dell'interno era Roberto Maroni e credo che dobbiamo tornare ovviamente con questa corrente di pensiero. Una volta identificati devono essere espulse le persone che appunto sono clandestine e non regolari per tutelare sia il momento di crisi che abbiamo, non c'è più posto per altri cittadini che arrivano da fuori con quello che riguarda il lavoro, ma darebbe anche dignità ai tanti immigrati regolari che in maniera regolare sono venuti a abitare appunto in questi territori.